Ci siamo, si aprono le gabbie, partiti cavalli della quarta Light My Soul, Sankody, Lady Cashel, Andy Seah, Crystal Wind, tutti questi che hanno fatto partenza, anche Hagrid si aggiunge al primo parziale vehemente da parte di Crystal Wind con lo stesso Hagrid in terza c'è Sankody, posizioni che si stanno cristallizzando con Andy Seah poi Dovi Sweeti di dentro, Light My Soul, Lady Cashel nel gruppo, My Wild Side che ha al suo esterno Nora Moon e Royal Kota in coda il parziale è stato veramente bruciante, quando i cavalli entrano in questo momento addirittura d'arrivo Hagrid prova la carta del lungo anticipo con Crystal Wind che invece si getta al centro della pista di dentro c'è Sankody, percorsie più esterne, tenta di farsi sotto anche My Wild Side di dentro c'è anche Light My Soul, ha 300 dal traguardo, è ancora Hagrid in vantaggio nei confronti di Crystal Wind, Sankody che non cambia marce, allora Hagrid deve ripartire sotto il pungolo dello stesso a Crystal Wind, questi due che si staccano in lotta con Hagrid all'esterno di Crystal Wind ci prova anche My Wild Side con Hagrid ancora in vantaggio, di dentro c'è Crystal Wind Hagrid contro Crystal Wind che mette la testa davanti e vince regalando un bel doppio ad Alessandro Turco formazione assolutamente in ordine, Crystal Wind vince, doppio in giornata tanto per Salvatore Basile tanto per Alessandro Turco, i colori sono sempre quelli della Gemara, vediamo il guizzo conclusivo con il quale Crystal Wind si è liberato di Hagrid che sembrava preponderante al centro della pista, poi terza dovrebbe essere arrivata My Wild Side che aveva preso l'azione e poi non è riuscita a svettare ma qui rimaniamo sui primi due con Crystal Wind che dunque ottiene la quarta affermazione in carriera, switchando sul terreno sicuramente più confacente alle sue caratteristiche, vice numero 8 nei confronti del 5 e al terzo del 3, 8, 5, 3 e l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile dalla quarta Grazie a tutti Grazie a tutti